Auguri dall'ufficio dei consigli di Natale. Io sono Margherita e lei è Giulia. Siamo esperte di regali, sempre pronte a trovare un sogno nel pacchetto per tutte le bambine che amano il mondo Disney Frozen e le principesse Disney. Incredibile, anche a Natale mi chiedono aiuto. Ciao Margherita, oggi il sogno nel pacchetto è il tuo. Auguri dalla tua sorellina Giulia. Giulia, ma sei tu? Pacco pacco del mio Natale! Apriamo insieme questo regalo speciale. Wow Giulia! Grazie! Passare il Natale in famiglia è il vero sogno nel pacchetto. Non potevo ricevere il regalo più bello. Buone feste a tutti! Auguri!